Mi avvicino Buone risposte Intanto buon risultato Noi stiamo insistendo molto su una partita alla volta perché è sempre in generale così in un torneo come il Mondiale un torneo lungo, difficile con grande equilibrio, competitività lo è ancora di più e quindi partiamo da quello però circoscriviamolo come sempre alla quotidianità della partita e quello che è stato e quindi sì, è stata una partita dove credo la squadra si sia espressa su ottimi livelli dove ha avuto un inizio in cui ha dovuto stringere i denti perché quando poi si superano sembra che non ci sia quasi nemmeno stato ma in realtà c'è stato e tutti voi, tutti noi sappiamo bene quanto poi alcune situazioni possono cambiare la storia delle partite, dei set, delle cose quindi credo che la squadra abbia risposto bene e si sia adattata bene anche a una difficoltà tecnica perché quello era non è che la difficoltà dell'inizio della gara era legato a un discorso di atteggiamento di approccio era legato alla qualità del Belgio che conoscevamo in particolare della loro battuta a Flott che ci ha creato dei problemi e ci ha fatto fare un po' di fatica all'inizio nel dare continuità al cambio palla e poi però credo che la squadra abbia come dire trovato in fretta resistito alla difficoltà e trovato in fretta una maniera di come dire aggiustarla meglio e sviluppare con continuità il suo gioco Grande velocità di gioco si è visto forse anche il lavoro che avete fatto fisicamente a Cavalese perché vedo i ragazzi abbastanza in forma Io credo che sia difficile identificare una cosa piuttosto che un'altra sicuramente abbiamo lavorato tanto abbiamo lavorato tanto e i ragazzi ci hanno messo grande grande impegno e grande condivisione non solo di obiettivi ma di quotidianità il gioco veloce è anche frutto di il gioco veloce lo puoi fare se la ricezione ti accompagna siamo riusciti in alcuni momenti ad avere continuità di ricezione e quindi ci permette di sviluppare più variabilità più imprevedibilità ma anche più rapidità nelle traiettorie e questo spesso viene insomma sono cose correlate c'è stata una bella crescita anche in difesa rispetto alla WNL e anche forse le uniche esibizioni dell'anno scorso ma io questo è un aspetto del quale abbiamo divattuto credo che anche nelle amichevoli premondiale si fosse visto però non sempre poco fa parlavamo della ricezione tu puoi lavorare una cosa finché vuoi dando priorità quindi questo vuol dire aggiungere volumi di lavoro su quella cosa specifica quando io preparo un progetto per una squadra do delle priorità dal punto di vista di squadra e poi individualmente ognuno ha le proprie la difesa è una cosa sulla quale abbiamo insistito parecchio perché è una una parte del gioco molto importante oltretutto che contamina credo la mentalità anche di una squadra quando trovi una squadra che difende molto e quell'aspetto lì conta di più di tante parole nel nel dimostrare determinazione e voglia di di non mollare l'osso no? però non sempre questo magari ti riesce perché perché le partite sono fatte di situazioni perché ci sono degli avversari che delle volte riesce a neutralizzare meglio e altre volte meno bene l'importante è dare la giusta importanza scusate la ripetizione alle cose nel senso bisogna considerare spesso magari non viene così fatto si parla molto di muro e invece a noi piace parlare molto di difesa anche nel maschile perché io credo che che quello sia un aspetto decisivo e non solo nel discorso della mentalità che dicevo prima ma ma anche proprio dal punto di vista puramente tecnico festa d'argentina su cui state puntando e lavorando in particolari nuove no ma noi durante un torneo si lavora si lavora più teoricamente tatticamente si cerca di stare bene si cerca di prepararsi mentalmente alle partite non c'è più tempo di aggiungere qualcosa ci sono i risultati che si intrecciano con gli obiettivi con la determinazione con la difficoltà di ogni singola partita che è data dalla qualità dell'avversario e dalla diversità di un avversario rispetto all'altro si studiano le caratteristiche della squadra avversaria si cerca di prepararsi mentalmente ad affrontare la sfida al di là di quello che è stato il risultato della partita precedente nostro e loro e basta ecco adesso noi ovviamente l'Argentina come tutte le squadre sono già studiate c'è da aggiungere la partita che faranno questa sera per vedere se ci sono delle variazioni nel sestetto nel sestetto